Buongiorno, questo festival creato da Pascal Vicedomini è arrivato alla sua decima edizione e questo è un grande augurio per il festival perché coincide con un momento in cui l'Italia sta, grazie a Monti e ai suoi collaboratori, tirando sulla testa. Speriamo che Monti e i suoi collaboratori sappiano anche far tirare sulla testa al cinema dalla oppressiva pirateria sul web e anche attraverso altre forme. Visto che io sono uscito adesso da un seminario dove c'erano americani, italiani proprio sulla pirateria online, vi prego rispettate il diritto d'autore, rispettate il copyright, rispetterete voi stessi e sicuramente potremo ancora fare dei bei film, dei bei prodotti, scrivere dei bei libri, fare delle belle canzoni per tutti quanti voi.